Sono andato a un matrimonio di due amici di famiglia nel Varesotto e dopo la cerimonia fuori dalla chiesa c'era un lenzuolo gigantesco tenuto dagli amici degli sposi su cui c'era scritto Luca e Stefania anime gemelle pelle d'oca sta roba ma pensa che botta di culo cioè queste due anime gemelle, Luca e Stefania su 104 miliardi di anime hanno 42 anni nello stesso anno e sono nate e cresciute entrambe a Yerago Conorago The power of love, capite? La magia Perché non proviamo ad essere sinceri? Perché non proviamo a dire la verità? Perché non facciamo un bel lenzuolo grande con scritto sopra Luca e Stefania, amici fin da bambini dopo una lunga serie di delusioni amorose per non rischiare di morire soli hanno scelto il meno peggio per ora Per ora